Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo la pagina sportiva del TG Noi con la Lucchese e con l'attesa che cresce in vista della gara di domenica prossima al Porta Elisa contro la Carrarese. Probabilmente potrebbe essere anche l'ultima gara stagionale in casa dei rossoneri. Complessivamente finora sono state 20 le partite giocate da Tiriteli e compagni nel loro stadio dove naturalmente comprendiamo anche le due di Coppa Italia contro la Juventus Next e il Padova in quella che è stata la semifinale. Potrebbe essere anche il passo d'addio per diversi giocatori e per lo stesso tecnico Gorgone su cui continuano le voci che lo vorrebbero alla SPAL. Di sicuro la Carrarese di Mister Calabro, interlocutore ostico e forte come testimonia, il terzo posto in classifica. Ci vorrà quindi da parte della Lucchese una prova di carattere e d'orgoglio per un buon congedo nel contesto di una stagione possiamo dire da dimenticare. Naturalmente su tutte le vicende rossonere torneremo nelle prossime edizioni del TG Noi Sport e in particolare anche giovedì sera come sempre alle 21.30 con un nuovo appuntamento con Curvo Ovest dove avremo anche un'intervista realizzata dal collega Gidio Conca con l'amministratore delegato Rei Lofaso. L'arbitro di Lucchese Carrarese sarà il signor Gioele Iacobellis di Pisa, assistenti Riccardo Leotta di Acireale e Francesco Macchi di Gallarate. E adesso facciamo il punto sul campionato di eccellenza e anche su quello di promozione, punto curato da Roel Epole. La sconfitta della Massese in casa della Coiopelli per 3-2 complica il cammino dei bianconeri nel campionato di eccellenza ma c'è ancora la matematica pur con la spada di Damocle e della forbice dei 10 punti. Padoni di casa che sbloccono il risultato con bene i ricetti, poi buffa pareggia ma il quarantesimo Fantini riporta in vantaggio i suoi con Go che sigla il terzo gol. Nel recupero Terigi va in rete per gli Apuani. Unica nota positiva domenica è stata il rientro in campo dopo tanti mesi del fantasista Andrea Vignali. Pareggio ha il Camagliore 2-2 con il Cercina ma butta via un tempo le reti Blu Amaranto di Chella per il vantaggio e Geraci per il 2-0. Poi la rimonta degli avversari. Ha festeggiato il tutto cuoio che vincendo 1-0 con la rete di Massaro a Montesperto li è stato promosso in Serie D. Domenica pomeriggio il girone A del campionato di eccellenza non scenderà in campo. La decisione è stata presa dal comitato regionale della FIGC in seguito al decesso di Mattia Gianni dopo il malore. Ha avuto domenica pomeriggio nel corso della partita in cui giocava per il rispetto del giocatore e per consentire anche la regolarità del campionato ormai nella rascia finale. In promozione al viareggio pareggia 1-1 a Castelnuovo. Gol di Cecialini per le Zebre e per i padroni di casa Benedetti. In virtù del pareggio del Pietrasanta sul campo del Lampo 1-1 gol di Del Sorbo e Mannini, il vantaggio dei ragazzi di Stefano Santini a tre giornate dalla fine del campionato è di tre punti. Contestazione da parte del Pietrasanta nei confronti dell'arbitro Macca di Pisa per la mancata assegnazione di due calci di rigore sul Zabo. Domenica il viareggio ospita il viaccia mentre il Pietrasanta se la vede con il Castelnuovo. Nel tennis al torneo di Cooper siamo a Capodistria, 60 mila dollari nei sedicesimi di finale sconfitta per Tatiana Pieri. La 24enne tennista lucchese è stata battuta dalla serba Dejana Radanovic, peraltro una delle favorite del torneo. Cresce l'attesa nel basket perché domenica per il Basketball Club Lucca è l'ultima gara della fase in silver, non è detto che sia l'ultima della stagione. Appuntamento di quelli da cerchiare in bianco rosso. Domenica prossima 21 aprile ore 18 al Pala Tagliate si giocherà Basketball Club Lucca Borgo Manero. È l'ultima partita dei play in silver con la quale il BCL potrebbe uscire di scena o essere traghettato nel playoff per tentare la scalata alla binazionale. Cocce Livieri e la sua truppa sono pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo, pronti a lottare. Sarà una partita vera con la voglia di vincere e di rifarsi anche della sconfitta subita all'andata. A decidere del futuro però dei biancorossi e di Capitan Barsanti non sarà solamente quanto accadrà sul parchè del Palasport di Lucca, ma quanto si verificherà anche sugli altri campi, in particolare alla Spezia, dove si giocherà in contemporanea come antica buona abitudine del tempo che fu. L'area, attenzione, nulla viene lasciato al caso, ogni più piccolo aspetto studiato, provato e riprovato. A portare fortuna al Basketball Club Lucca si spera anche le centinaia di orsetti di peluche, che salteranno in campo al fischio d'inizio dato dagli arbitri e che verranno donati alla rappresentanza della pediatria dell'ospedale San Luca, presente alla partita per portare al pubblico la loro esperienza e vita vissuta in reparto con i bambini. Nei motori il secondo posto di Riccardo Pera sul circuito di Catalunia, dove si è disputata la quattro ore di Barcellona, prima prova del campionato europeo Endurance. Il 24enne pilota lucchese ha disputato la gara con la Ferrari 296 GT3 del Team Golf Racing, assieme ai compagni di squadra il britannico Michael Wright e Davide Rigondo. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere, Pera è stato il più veloce anche sul giro in gara. Adesso prossimo appuntamento il 5 maggio e a Francia, in Francia, le Castellè sul circuito Paul Riccardo. Tutto pronto quasi per l'edizione 2024, anche se mancano ancora diversi mesi, del giro della Toscana internazionale femminile. Sentiamo Patron Brunello che spiega nel dettaglio come sarà la corsa. Le tappe sono già decise. Di marzo, il 30 marzo, avevo già le mie 28 squadre pronte per la partenza e ne ho ancora una ventina in coda se qualcuno dovesse rinunciare. Quindi immaginatevi voi il mio giro come la gente ci viene volentieri. Le tappe rimangono le stesse, perché quest'anno volevo allungare una giornata, però poi mi creavano dei problemi perché ormai avevo presentato il programma e quindi il resto sulle solite tappe. Saranno le quattro tappe con la partenza da Campi Visenzio il 29 agosto. Campi Visenzio, Campi Visenzio, la solita cronometro che è sempre venuta bene, grande spettacolo. Il giorno dopo, il 30 sarò a Quarrata, Serravalle, Pistoiese. Si arriva proprio sotto le torri, quindi bellissimo come anno scorso, grande successo. A Quarrata dovrebbe esserci anche un'inaugurazione di un museo di biciclette, di maglie, di roba storica. Ci sarà anche una sfilata di ragazze, di abiti. Insomma, ci si abbina al nostro giro tante altre cose per abbellire un po', essendo una cosa al femminile, si fa un qualcos'altro anche al femminile. Poi ci sarà la tappa di Serromigno in Piano il 31, la tappa di Serromigno che ricorda Michela e quest'anno ricorderà anche Giulietta perché ho avuto anche questa disgrazza, quindi non è servita solo la disgrazza di Michela, ma ora ho avuto anche la disgrazza di mia moglie. E sarà una bellissima tappa con una messa alle ore 10 a Serromigno in Piano e ricordo di Giulietta e di Michela. La domenica il grande tappone da Lucca sulle Mura, grande spettacolo, dalle Mura che si arriverà a Montecatini Alto. Come l'anno scorso, grande successo, grande spettacolo e quest'anno sicuramente viene meglio ancora. Finiamo con le arti marziali. Night Kick Out al Palatagliate è stato un grande spettacolo. È andata in archivio con un successo a dir poco strepitoso la nona edizione del gala Night Kick Out che si è svolta al Palatagliate di Lucca. La manifestazione ha riscosso un grande successo tecnico e anche di pubblico che si è fatto trascinare dalle emozioni dei vari incontri in cartellone. Da notare la perfetta organizzazione dell'evento da parte del Kurosaki Dojo Pisa di Simone Benedettini con la compagna Tina e del Profight Fitness Lucca di Cristiano Lenzi coadiuvato dalla moglie Manola. Un impegno lungo e severo per gli organizzatori, nonché appassionati ed esperti della disciplina delle arti marziali, che però alla fine li ha ripagati con l'eccellente risultato avuto. I match sono stati davvero spettacolari e si sono susseguiti a buon ritmo senza un attimo di respiro, tanto che risulta davvero complicato stilare un'eventuale classifica sulla loro bellezza. Nel dettaglio ricordiamo i successi di Inkes su Barucci, di Peroni su Vitrano, Ruggero che supera Iori e parliamo sempre di vittoria ai punti ed ancora Luperini per capo al secondo round nei confronti di Zori, di Ciarpaglini su Dermendia, Redruello che la spunta su Vergaro e Carrara su Fernandes. Sono invece finiti in parità i match tra Chianese e Odai e quello tra Canino e Galli. Appuntamento adesso ad aprile 2025 per la decima edizione del Night Kickout, che ne siamo certi riserverà ancora tante emozioni e sorprese. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi Mi Fermo Qui, linea naturalmente alla regia e subito dopo gli altri spazi legati all'informazione di Noi TV.